Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, Amen. Io, nel nome di Gesù Cristo, rinuncio a Lucifero, a Satana, ad Asmodeo, ai loro scorpioni e serpenti, ai loro legami, riti e simboli, e mi consegno a Gesù, che scelgo come mio unico Signore, per vivere nella libertà di figli di Dio, in forza del mio battesimo, perciò consacro a Gesù il mio cervello e il mio centro di equilibrio, perché io credo che sono stato salvato dall'offerta del corpo e sangue di Cristo. Io, nel nome di Gesù Cristo, per la gloria del Suo nome, per il Suo preziosissimo sangue, per le Sue santissime piaghe, per l'intercessione della Beata Vergine Immacolata, concepita senza peccato, degli Angeli e dei Santi, spezzo oggi e per sempre ogni legame occulto, medianico, sintonico, telepatico, onirico, spiritico, magico, malefico, satanico, sessuale, mentale, con gli antenati, con gli spiriti del male, con le anime dannate, con i maghi, cartomanti, fattucchieri, con chiunque abbia fatto o fatto fare riti o preghiere su di me, per legare o distruggere la mia vita, il mio corpo, la mia mente, la mia salute, i miei affetti, la mia famiglia, il mio lavoro, i miei studi, la mia casa. Spezzo tutto questo in nome di Gesù Cristo e in forza del mio battesimo, io suggello con il sangue prezioso di Cristo il mio corpo, il mio spirito, la mia mente, la mia anima, la mia salute, i miei affetti, la mia famiglia, il mio lavoro, i miei studi, la mia casa. Grazie Signore Gesù, grazie Maria, sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, ame. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ame.